La cucina è una cucina pulita, netta. Il primo piatto che proporrò è quella che io chiamo una semplice insalata, composta da differenti tipi di verdure, lattughine e fiori commestibili. La accompagniamo con della quinoa e una salsa che definisco una finta citronette, dove la parte grassa dell'olio è sostituita dall'avocado e l'acidità data dal limone è sostituita invece dall'acidità data dai pomodori verdi e alcuni pomodori rossi. È un piatto che è prettamente estivo ma può essere fatto in pratica anche tutto l'anno, basta sostituire alcuni tipi di vegetali, di lattughe che sicuramente si trovano in inverno e non in periodi caldi. Nell'insalata di Baiocco il contenuto calorico è limitato, 146 calorie per persona, derivanti dalla quinoa che ne dà 356 per 100 grammi di prodotto e dal frutto oleoso avocado che ne dà 231 calorie per 100. I carboidrati derivano in parte dalla quinoa, 58% del suo peso e in parte dagli altri vegetali della ricetta.